ciao ragazzi sono ryzen ed oggi eccoci qui per l'estrazione del premio messo in palio da me la settimana scorsa parto subito con ringraziarvi perché inaspettatamente sia nelle partecipazioni ma anche nei commenti ricevuti in privato questa mia iniziativa ha avuto davvero un buon esito e sono piacevolmente sorpreso della cosa volevo chiedervi infatti di restare subito dopo l'estrazione di non andare via perché volevo farvi una domanda detto questo passiamo subito all'estrazione ho preso tutti i nomi dei partecipanti e li ho messi in un elaboratore casuale dopodiché start ciao 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 e la vincitrice del giveaway è nimue ti lascio qui di seguito le modalità con cui contattarmi e lasciarmi i tuoi dati personali per permettermi di spedirti il premio volevo ringraziarti e ringraziare tutti quanti i partecipanti dicendo che questo non sarà il mio ultimo giveaway prossimamente probabilmente ne farò un altro però la domanda che volevo farvi è volete che vi porti altri video del genere dove dipingo dove magari faccio un disegno dove magari coloro dei disegni già fatti a me piacerebbe tanto ma mi sono sempre interrogato su come l'utenza potesse prenderla quindi ve lo chiedo direttamente se questo genere di video può attrarre la vostra attenzione io lo porto più che con piacere anche perché la pittura e il disegno sono sempre rientrate tra le mie passioni e quindi non avrei alcun problema a portarvi dei contenuti sul genere vi ringrazio anticipatamente per la risposta e ancora una volta ringrazio ogni singola persona per avermi permesso di mandare avanti questo sogno e e finalmente di realizzarlo questo era un piccolo gesto per sdebitarmi del grande aiuto che voi state dando a me ricordatevi di iscrivervi al mio canale detto questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video grazie da Ryzen